Buon mercoledì 13 aprile. I Vangeli ci offrono questa immagine tragica, intensa, dell'approssimarsi alla Pasqua. I discepoli stanno preparando con Gesù la festa della Pasqua. Mangiano insieme questo atto di convivialità all'insegna della dimensione dell'amore profondamente turbato da questo tradimento. Giuda ha consegnato per 30 denari d'argento Gesù ai capi, ai sacerdoti del Tempio, all'ordine costituito, che è luogo simbolico della predazione, del possesso antitetico alla dimensione dell'amore. Gesù sa, e sa chi è colui che lo tradirà. E candidamente Giuda osa dire, sono forse io? Questa è la grande ipocrisia dell'uomo abitato dalla logica del potere. Lo vediamo in questa guerra nella quale c'è scarsa attenzione nei confronti della pace. Sono forse io il colpevole di questa devastazione, di questo massacro? L'invasore che sa benissimo che cosa sta facendo, che ha consegnato la ragione della pace alla miseria della guerra, in tutta la sua potenza, in tutta la sua carneficina, osa addirittura dire che gli dispiace di questa tragedia dell'Ucraina. Ma non aveva scelta? No, la scelta ce l'aveva. E come? Così come ce l'hanno tutti coloro i quali oggi entrano in scena da protagonisti, in questo immenso massacro, in questo equilibrio geopolitico che ha abdicato rispetto alla ragione della vita e della pace. È in corso un tradimento, ancora una volta per dei denari, perché dietro a queste forme terribili, massacranti, frutto anche della raffinatezza tecnologica, derivata a sua volta da investimenti insensati nella costruzione di armi e su questo ci sono molti traditori e responsabili. Ci sono i tecno scienziati i quali hanno tradito la loro stessa ragione di esistere, sono per la tutela della vita e in realtà poi, in ragione di carriere e ricchezze personali, finiscono per orientare il loro intelletto verso la costruzione di strumenti di massacro, di sterminio. Vedete, il tradimento c'è come sono forse io? È una domanda che dobbiamo porci ciascuno con immensa titubanza, senza certezze di essere estranei a tutto questo e Gesù risponde colui che mi consegna sarebbe meglio non fosse neanche nato. È una durezza estrema che Gesù esprime che ci riporta all'immensità della catastrofe generata dal tradimento. Oggi noi siamo chiamati nell'immagine tragica del tradimento a rinnovare la nostra fede e attraverso il rinnovare la nostra fede far sì che ci sia un atto di presa, di coscienza e di conversione per cogliere in questa immagine tragica del tradimento, di infinita capacità di Gesù di testimoniare l'amore fino alla fine, fino alla morte di croce, la morte tragica, terribile, disumana, ma terribilmente umana allo stesso tempo nel senso che è il prodotto di una tecnica dell'essere umano nella della sua parte peggiore. Però l'immagine di Gesù è sempre quella della mansuetudine, dell'amore. Fino all'ultimo fa la volontà del padre, non per sua volontà e non ferma neppure il tradimento perché sa che dopo il tradimento vi sarà il tempo della conversione, dopo la morte vi sarà la liberazione dall'angoscia della morte e vi sarà il tempo della risurrezione e della vita. Buona giornata a tutti.